Musica Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video Siamo qui oggi con questa nuova guida tra Baltum e la grotta di Gloomreach Per quale motivo in questo luogo? Allora in questo luogo come da titolo dovremo andare a recuperare la sventura dei troll Si lo so che è un'arma semplice da recuperare però ho fatto questo video nell'attesa del nuovo DLC Dragonborn Che uscirà il 4 dicembre ve lo ricordo bene Se volete sapere qualche notizia ho fatto il video una settimana fa Circa una settimana fa e lo potete trovare nel mio canale Allora come recuperare quest'arma è semplicissimo Come ho detto dovete andare tra Baltum e la grotta di Gloomreach Qui ci saranno due troll che difenderanno questa piccola caverna, questa piccola entrata Qui ci sarà un cadavere con addosso quest'arma che a noi interessa Sventura dei troll Cosa fa? Come state vedendo brucerà il troll infliggendogli 15 punti di danno Sì perché come molti di voi sanno il troll è debole contro il fuoco Contro qualsiasi o arma o incantesimo che abbia come elemento il fuoco Quindi mi raccomando tenetelo in testa questo fattore I troll sono debole al fuoco ed ecco perché quest'arma è efficace Io vi ho fatto vedere anche il combattimento con questi troll L'utilizzo di quest'arma Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto Per farmi sapere sempre cosa ne pensate E ci vediamo il 4 dicembre No, con un po' prima o qualche altro video Ciao! Ciao!